Poco fa l'ultimo aggiornamento su Eleonora Giorgi che sconvolge tutti i fan. Prima di iniziare, vi invito calorosamente ad iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella per ricevere sempre gli aggiornamenti più freschi. È un piccolo gesto da parte vostra, ma per noi è fondamentale per mantenervi al passo con le ultime novità. Dopo un breve intervallo di due settimane, Eleonora Giorgi ha nuovamente fatto sentire la sua voce attraverso i social media. La nota attrice è stata sottoposta ad un intervento chirurgico il 25 marzo scorso per rimuovere un tumore al pancreas diagnosticato nel novembre precedente. Giorni prima dell'intervento, durante una comparsa su Canale 5, Eleonora aveva condiviso apertamente le proprie emozioni. Quando sarò in sala operatoria, chiuderò gli occhi e tutto andrà bene. Tornerò ad essere quella di prima. Terminata la fase di recupero, l'attrice è finalmente riuscita a riabbracciare calorosamente la sua famiglia. Grazie al positivo esito dell'intervento, con grande gioia ha festeggiato il suo congedo dalla Clinica Romana, esclamando, sono trascorse più di due settimane ed è finalmente giunto il momento di tornare a casa. Evviva! Desidera esprimere la sua profonda gratitudine ai medici e al personale della Clinica Salvatore Mondi, ai suoi amati figli, a tutti i suoi cari amici e anche a voi tutti. Eleonora ha assicurato un ritorno definitivo, dichiarando, ora sono a casa e viva ancora per poco, ma finalmente guarita. Ci rivedremo presto, ve lo prometto. Queste parole hanno riempito di gioia i suoi fan. E ora, tocca a voi. Cosa state aspettando? Non esitate a lasciare un messaggio di pronta guarigione ad Eleonora qui sotto nei commenti. E non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati. Grazie di cuore per il vostro supporto.